Presentavano liste elettorali nei piccoli comuni d'Italia con meno di mille abitanti, dove magari avevano un solo avversario e così riuscivano ad entrare nei consigli comunali dalla parte della minoranza. Per fare questo inserivano nelle liste persone residenti da tutta e altra parte d'Italia e ignare di essere candidate. E' questo il sistema adottato dal movimento politico L'altra Italia, finita in un'indagine della Guardia di Finanza di Este coordinata dalla Procura di Rovigo. Era quella di presentare liste in comuni con meno di mille abitanti, la procedura è sostanzialmente semplificata, non è necessaria una sottoscrizione di sostenitori e in questo modo venivano iscritte nelle liste anche persone che disconoscevano di essere inserite nelle liste perché non avevano mai firmato la loro candidatura. L'indagine nasce nel 2019 e ha portato alla denuncia di 15 persone, di cui 5 sottoposte a misure restrittive. Ai domiciliari il fondatore leccese del movimento, sospeso dal pubblico incarico e obbligo di firma invece per un 58enne di Rovigo, che nel 2019 era riuscito a farsi leggere in consiglio comunale a Barbona, piccolo comune della bassa padovana. L'uomo poi aveva autenticato film e farse per presentare nelle successive tornate elettorali le liste del movimento. L'obiettivo di questo movimento vicino alla destra era il seguente. Acquisire visibilità, proporsi ai partiti maggiori come soggetti capaci di raccogliere consenso, di riversare poi nel loro interesse, nell'interesse cioè dei partiti maggiori, in occasioni di elezioni amministrative, in cambio evidentemente di una qualche visibilità all'interno di quel determinato territorio. In totale sono 23 piccoli comuni da nord a sud dove il movimento si era presentato con liste piene di persone totalmente ignare che mai avevano firmato. Per esempio alcuni di questi nomi e quindi di queste firme, dei dati identificativi delle persone, sono provenuti anche da quelle vendite che tante volte si fanno a porta a porta, soprattutto al sud. L'altra Italia era riuscito così a farsi leggere anche nel comune di Vighizzolo d'Este nel 2020 e nel comune di Posina nel Vicentino. Un caso lampante dove il candidato, primo nella lista, contattato dal funzionario per il conferimento dell'incarico, è caduto dalle nuvole ed è risultato essere un anziano residente al sud e completamente invalido. Grazie. Grazie. Grazie.